E buonasera e bentornati a Iulo l'arte per l'arte. Vedete questa sera siamo immersi in questa atmosfera blu. Il blu per un autore importante novecento come è stato Pablo Picasso era un colore che comunicava la tristezza perché arrivò il periodo blu di Pablo Picasso nel momento in cui venne a mancare un suo carissimo amico perché si tolse la vita. Ecco il blu però di cui parleremo questa sera è un blu che rappresenta in particolare l'attesa. Voi sapete che l'attesa è nella nostra vita una manifestazione che si rivela più volte in momenti anche importanti. Uno dei più importanti ad esempio l'attesa per un figlio, l'attesa di una persona amata, l'attesa di un evento, di un risultato. Ecco per Marc Chagall l'autore di cui parleremo questa sera il blu è questo e l'attesa di qualcosa che arriva dal profondo dallo spirito e si rivela. Il blu è però anche la notte, quella notte nella quale si rende più evidente il significato di un evento onirico e che con l'arrivo dell'alba, con l'arrivo cioè della nascita di un nuovo giorno, in qualche modo vengono a emergere le immagini della quotidianità, quelle cioè delle opere di Marc Chagall, quelle dello shtetol, del villaggio ebraico, delle favole, delle fiabe, dei racconti della Russia del suo tempo, di quegli animali così particolari perché di colore particolare come gli asini verdi come le mucche rosse, come i cavalli e i pesci che volano, oppure le caprette che suonano il violino che sono significato nella loro umanizzazione, in questi occhi umanizzati, animali cosiddetti umanizzati di Chagall, anche dell'ingenuità dell'infanzia. Ecco quel suono del violino, questo strumento che secondo Chagall era il suono che arrivava fino a Dio. Ecco Marc Chagall nasce nel 1897 a Lezna. Lezna è un paese della Bielorussia, la Bielorussia a quell'epoca era sotto l'impero russo, lui è un russo naturalizzato francese perché poi nel 1937 prese la cittadinanza francese diventando da Moshe Segal a Marc Chagall, ma è di origine ebraico-cassidica. Il cassidismo è quella ideologia che pervade tutto della presenza di Dio. Nessun sito ne è privo, dice una frase aramaica e in particolare la famiglia di Marc Chagall è ebrea-cassidica. Ecco Marc Chagall è il primo di nove figli e il papà è un mercante di aringhe. Vivono a Lezna, questo paese, questo villaggio piccolino che è vicino a Vitebs e in particolare lui studierà nella scuola del posto, solo quattro classi, si distinguerà nel disegno, nella geometria e quindi vorrà fare la carriera artistica, cosa che in quel momento era espressamente vietata dalla sua corrente religiosa e pertanto la famiglia faticherà a accettare quest'idea. Poi per due mesi sarà da un artista, l'unico artista di Vitebs, lui non amava questo artista perché aveva una formazione accademicamente, lui aveva delle idee seppur fondate nella tradizione sicuramente innovative. Nel 1907 sarà a San Pietroburgo all'Accademia Russa di Belle Arti, prenderà anche una borsa di studio e tra il 1908 e il 1910 lavorerà all'interno dell'atelier di Leon Baxt che era un artista costumista, scenografo, pittore molto all'avanguardia che gli fece conoscere anche l'arte di Cézanne e di Gauguin spingendolo l'anno successivo ad andarsene a Parigi. L'anno prima però nel 1909 lui conoscerà Bella Rosenfeld che diventerà poi la sua muse ispiratrice per tutta la vita con anche la sua successiva sposa che sarà Valentina Brodsky e questa donna giovanissima quando la conobbe figlia di orafi molto ricchi del luogo si sposarono sarà a Parigi, Marc Chagall nel 1910. Ecco lì frequenterà l'ambiente della Rusche, frequenterà l'ambiente artistico di Montparnasse, conoscerà figure importanti come Guillaume Apollinaire, come Fernand Leger, come Robert Delenay. Ecco però lui non si ritroverà mai col pensiero cubista, lo riteneva troppo fisico, cioè troppo distante dalla sua idea di arte che doveva essere sì un'idea che parte dalla forma ma che poi si esalta in una profonda spiritualità. Ecco Marc Chagall in quegli anni realizzerà opere come alla Russia, agli Asini e agli altri e ancora io il villaggio oppure il santo Vetturino. Ecco sono anni difficili perché manca il cibo, mancano tutti i beni primari, tornerà poi a Vitebs parteciperà alla rivoluzione russa, prima realizzarà opere ancora importanti come sono ad esempio l'ebreo in preghiera, l'ebreo in rosa, compleanno, la passeggiata. Ecco e poi al Ministero della Guerra sarà attivo rivoluzionario. Ecco verrà poi investito della carica di commissario per l'arte per la regione di Vitebs, potrà fondare addirittura un'accademia libera di belle arti e un museo d'arte moderna. Purtroppo però le sue idee innovative dove rappresentava come dicevo prima figure di animali particolari, umanizzati, che diventavano in questo momento anche il simbolo della rivoluzione. Non piacqua chi governava, che avrebbe voluto vedere dei ritratti proprio di quelli che hanno stati i fondatori, gli ideologi di questa rivoluzione e quindi venne allontanato. Venne allontanato la sua scuola, la sua accademia, divenne un'accademia suprematista, vi ricordo Kazimir Malievic, suprematista, astrattista e quindi gli verrà assegnato un lavoro a Mosca come maestro di bambini, di ragazzi orfani. In quegli anni lui realizzerà nove pannelli per il teatro ebraico Granovski, di cui ne rimangono solamente nel 1927. Ecco, nel 1923 potrà andarsene dalla Russia, andrà a Berlino, realizzerà una serie di opere di cui la maggior parte andate purtroppo distrutte, altre verranno beffeggiate come arte degenerata dall'avvento il nazionalsocialismo, ma a Parigi, sempre in quegli anni, dopo il 1923, conoscerà Ambroise Volard, questo gallerista editore importante che gli commissionerà delle acque forti per opere importanti come le anime morte di Gogol, come le fiabe di La Fontaine, come soprattutto la Bibbia che lui amava moltissimo, era il libro che amava di più, riteneva che la poesia vera, più elevata stesse proprio nella Bibbia. Sarà infatti nel 1930 un viaggio in Palestina con la sua famiglia, lui aveva una figlia, Ida, in quel momento, per approfondire i luoghi. Ecco, parleranno di lui anni prima a Polinère, dicendo che era assolutamente un artista soprannaturale, Sendrali dedicherà quattro dei suoi poem Elastique. Ecco, Marc Chagall purtroppo nel 1937 dovette fuggire con la sua famiglia verso Marsiglia, verso la Spagna, verso il Portogallo e nel 1941 sarà negli Stati Uniti. Era la paura dell'avvento dell'olocausto. Ecco, lì conoscerà Pierre Matisse che è il figlio del noto Henry Matisse che lo introdurrà proprio nell'ambiente artistico, gli permetterà di realizzare alcune collettive, illustrazioni. Purtroppo però nel 1944 Bella Rosenfeld morirà di una infezione virale e lui resterà per un anno, fino al 1945, assolutamente inattivo proprio per la sofferenza che aveva della perdita di questa meravigliosa compagna che era la sua musa ispiratrice di tanti quadri, tra cui La Marie, tra cui Le Coq Rouge, Dance La Nuit e tanti tanti altri, La Passeggiata. Ecco, aveva una figlia, dicevo prima, Ida, che gli fece conoscere Virginia McNeill. Virginia McNeill era una trentenne che aveva già sposato un altro artista, un pittore, si erano poi lasciati, si frequentarono per circa sette anni Mark Chagall e Virginia ed ebbero un figlio, David, e quindi tornò la vita, tornò l'amore. Ecco, da quel momento lui inizierà a realizzare numerose messe in scene, fra cui come scenografo, costumista, fra cui in particolare all'eco tratto dal poema di Puskin, oppure ancora più significativo, L'uccello di fuoco di Igor Stravinsky. Lo stesso Stravinsky si complimenterà per le scenografie meravigliose realizzate proprio da Mark Chagall e sua figlia e i costumi. Nel 1938 Mark Chagall realizza la crocifissione bianca. Il quadro è conservato al The Art Institute of Chicago, vicino al lago Michigan, ed è la rappresentazione della sofferenza del popolo ebreo. Gesù morto come sta morendo il popolo ebreo a causa della persecuzione nazista e anche della persecuzione da parte di Stalin. Questo Cristo indossa solamente il talit, il dumento, lo scialle che mettono gli ebrei per pregare e, vedete, non ha aureola, non ha croce spinata, ha una stoffa sulla testa e una luce che illumina la croce. Vi è una scala, una scala che certo può servire ai fini della crocifissione, ma potrebbe essere la simbologia della salita verso il cielo. Poi vi sono quattro personaggi in alto, sulla sinistra, due con le braccia aperte che stanno chiedendo aiuto in preghiera e due che stanno piangendo. Vi sono tre case che stanno bruciando e la milizia pogrom che si occupava purtroppo della persecuzione ebrea in Russia. Ecco, sul basso vediamo delle persone che stanno cercando di mettere in salvo la legge ebraica, cioè la Torah, e quindi il menorah, cioè il candelabro di sette braccia che rappresentano le sette giornate della creazione, altro simbolo ebraico che è ai piedi della crocifissione. Vi è una madre che tiene fascia alla testa del figlio e quindi vi è un uomo che sta cercando di portare in salvo nel suo sacco gli oggetti sacri mentre le scritture sacre bruciano. E' ancora una sinagoga sulla destra in alto che è simbolo di tutte le sinagoge che andranno distrutte proprio in Germania in quell'epoca e una scritta, Inri, Gesù, Nazareno, re dei giudei. E poi vi sono le tavole, le due tavole dei dieci comandamenti. È evidente, Chagall sta cercando di mettere in unione, in un'unione fraterna, quello che è il pensiero ebraico con quello che è il cristianesimo. È un quadro meraviglioso, di grande simbolo, che fa parte proprio del percorso di Chagall di questi anni. Marc Chagall tornerà in Europa nel 48. Già nel 47 gli era stata dedicata una mostra personale e dal Museo d'Arte Moderna del Ville de Paris è ritornato in Europa. Lui conobbe l'editore Teriad che gli commissionò, o almeno gli diede, la possibilità di avere pubblicate quelle opere, quelle acqueforti che lui aveva realizzato anni prima per un brasvolar che erano ancora inedite. E quindi vennero pubblicate le acqueforti tratte dalle anime morte di Gogol, tratte dalle favole di La Fontaine, dalla Bibbia stessa. Ecco, lo stesso editore Teriad lo convince ad acquistare una tenuta, da Le Collines, a Vance. E quindi questa luce meravigliosa di quei luoghi e colori riportarono la vita nello stesso Chagall che tra l'altro nel 51 conobbe Valentina Brodsky, va va la sua nuova musa ispiratrice che nel 52 sposerà e amerà quanto bella Rosenfeld. Ecco, in quegli anni inizierà a realizzare opere con tecniche che non aveva mai praticato, come ad esempio la scultura, la ceramica, le vetrate. Ecco, realizzerà meravigliose vetrate per, ad esempio, la cattedrale di Reims, la cattedrale di Metz, Notre-Dame-de-Sea, realizzerà una bellissima vetrata anche per la sinagoga dell'ospedale di Israele. E il ministro André Melraud gli commissionerà l'affresco della volta dell'Opera de Paris con personaggi che lui realizzerà sempre nel suo stile allegorico riferendosi a figure importanti delle opere classiche. Visiterà la Grecia sempre con Valentina Brodsky. Ecco, nel 1972 realizzerà un meraviglioso mosaico per il comune di Chicago ispirato alle quattro stagioni. Anni prima, sempre in America, aveva realizzato anche le illustrazioni per notti arabe che era nient'altro che le mille e una notte. Ecco, siamo nel 1973 quando ritorna in Russia. Ritorna in Russia trionfale, ormai è un Marschagall di grande respiro e già è sicuramente già il grande Marschagall. Ecco, sarà Mosca, sarà San Pietroburgo, non tornerà mai più a Vitebs, ma rincontrerà ad esempio una delle sue sorelle che erano 50 anni che non vedeva. Ecco, nel 1976 un autoritratto di Marschagall entrerà a far parte delle collezioni degli uffizi e l'anno successivo una personale a Palazzo Pitti. E nel 1977 il conferimento della croce alla legion d'onore da parte del presidente francese Valéry Giscard d'Esten e nello stesso anno una grandiosa mostra al Louvre. Nel 1973, facendo un passo indietro, nell'anno nel quale lui si trovava in Russia, veniva inaugurato un museo a Nizza sul messaggio biblico di Marschagall e conserva 17 opere di Marschagall realizzate da episodi biblici dell'Esodo, della Genesi, del Cantico dei Cantici, che è proprio il libro della Bibbia che Marschagall amava di più perché secondo lui l'amore fra due persone lì veniva esaltato ed era il colore più bello che la vita poteva portare, addirittura paragonabile a quegli occhi umanizzati dei suoi particolari animali colorati che ricordavano nella loro ingenuità l'infanzia che è sempre presente comunque nelle opere di Marschagall, il villaggio russo, il villaggio e la tradizione ebraica, la quotidianità di quei posti, questi animali ma anche l'assenza di gravità. Ecco nei quadri di Chagall vi è assenza di gravità. Vedete figure che volano grazie all'amore che le pervade questa notte come dicevo blu che non è solo notte ma è anche un'anima blu che pervade tutte le opere. Ecco Chagall è questo, Chagall è l'essenza della forma attraverso un messaggio assolutamente spirituale. Non vi sono anche proporzioni nelle figure di Chagall, non vi è un rispetto delle proporzioni, tutto ha un suo simbolismo. Ecco nell'84 alcune mostre molto importanti sempre al museo di Nizza, al Centre Pompidou e in particolare alla fondazione MMEG di Saint Paul de Vance. Purtroppo anche i grandi ci lasciano, lasciano questa terra e nel 1985 Marc Chagall morirà a 97 anni circa. Lo seguirà nel 93 la sua compagna, musa, una delle due muse ispiratrici che ha tanto amato, Vava, cioè Valentina Brodsky. Opere importanti come La Marie, rappresentazione di una sposa in abito rosso, il colore dell'amore, velata di bianco, una capretta che suona il violino, quel suono di cui parlavamo prima. E Le Coq Rouge, Dance la Nuit, quest'opera così fascinosa, dove queste due figure, che sono proprio Bella Rosenfeld da quell'epoca, lui non conosceva ancora Valentina Brodsky, e lo stesso Marc Chagall che aleggiano nell'aria in quell'assenza di gravità di cui parlavo, pervase da questo blu, quest'anima che tutto pervade, e questo galletto che annuncia il risveglio, che può essere anche una resurrezione. Marc Chagall, un grande artista che comunica attraverso i suoi colori e il suo blu, l'essenza dello spirito. Io vi ringrazio molto per la vostra cortesa attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento di Iulo, l'arte per l'arte, per parlare ancora di storia dell'arte. Buonanotte.